Buona giornata a tutti, siamo di nuovo su Ciper TV, oggi è venerdì 14 dicembre, ultimo giorno della settimana. Non so cosa vi abbia portato Santa Lucia, ma so cos'è la classe di oggi. Cominciamo subito costruendo un set pesante di back squat con due secondi di pausa in buca. A seguire tre round con 10 front squat, 20 chest to bar pull up e 50 double hand. Spesi e carichi sulla grafica qui di fianco. Per oggi è tutto e anche per questa settimana ci rivediamo lunedì. Ciao!